Ciao, sono qui per ricordarti che noi della Danieli Carra ci occupiamo dei tuoi mezzi da lavoro. Cassoni fissi o rivaltabili, installazione e assistenza gru e mezzi personalizzati. Se le scartoffie ti fanno perdere tempo prezioso, tranquillo, ti solleveremo da ogni fastidio burocratico. Danieli Carra. Da sempre il vostro lavoro è il nostro mestiere.